Questa sera ci troviamo qua perché per tutti quelli che sono qui vorremmo offrire una tecnica che è quella del training autogeno, volevamo proprio praticamente metterla in atto stasera spiegare di cosa si tratta, che è una tecnica che crea dei benefici a livello psicologico e a livello fisico e distendere le persone e rilassarle proprio perché in situazioni di ansia, di stress possano trovare beneficio attuando questa tecnica. Innanzitutto un rilassamento a livello psicologico, quindi verrà fatto una respirazione per dei minuti poi verrà disteso a livello muscolare tutto il corpo e a livello mentale verrà proprio guidata la psiche a rilassare determinate parti del corpo e invitare la persona anche a sentire dei momenti, di provare dei momenti di ansia per poi ridistenderla e riprovare quello stato di rilassamento che dovrebbe avere in modo naturale. Abbiamo appunto lo studio in Via Chiusure, che è Via Chiusure 58 e Poliambulatori e potrebbe contattarci perché noi teniamo dei corsi proprio di training autogeno e questi corsi vengono fatti una volta a settimana, sono quattro incontri e quindi se volesse farne parte noi saremo contenti.